Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Scuso se sentirete ancora dei rumori di sottofondo, però purtroppo ci sono le macchine che passano. Allora, volevo farvi vedere gli acquisti che ho fatto ultimamente e spero che questi acquisti vi possano piacere con sempre più bellissimi al benello natalizio. Allora, il mio primo acquisto va fatto al centro commerciale di Mondo Juve. È una cosa molto piccolina, non l'ho pagata tantissimo. E' questo qua. Che è una luna. Guarda, sì. Il legno. E si appende a questi bellissimi campanellini. Questa bellissima luna. Fatta così. Con questi campanellini. Di veramente è molto bella perché è fatta a mano. Fatta così. Io adoro il blu l'azzurro, quindi la trovo bellissima. Poi passa appunto leggero tocco. E' fatta così. Poi questo è tutto a da mano. Il legno. È bellissimo. Questa qua l'ho pagata intorno ai 2 euro. Poi il mio secondo acquisto che invece ho fatto al Torino Comics. Ovvero l'Xmax Comics Endgame che c'è stato a dicembre. E' questo qua. E' una cosa bellissima. All'interno c'è un fondepiliano. Che potete già intuire più o meno che cosa. Qua ci sono tutti. Sono tutti i tipi di articoli che loro vengono. Che sono appunto delle leggi a contatto colorate. Sono così. Sono di tantissimi tipi. Insomma sono di tantissimi generi diversi. Le desideravo da tanto. Allora ho preso quelle lì rosse. Adesso voglio farci vedere di questa. Abbiamo il portalenti. Questo qua. È fatto così. E queste qua invece sono le lenti. Sono queste qua. Sono appunto nell'acqua. E' un vero liquido. E' questo colore qua. E' un vero liquido. E' un anno. E' un anno dalla verdura. Sono ovviamente molto molto bello. Sono grosse. Questa qua. Le ho pagate sui 10 euro. Se non sbaglio me la regala bene ragazzo. Un altro dei miei acquisti. Questo l'ho preso qua. Un altro dei miei acquisti invece è questo qua. Anche io lo adoro. Io adoro questo cartone armato. Questo qua. Questo qua. E' il calendario di I'm happy for Christmas. Ed è bellissimo. Questi sono tutti i mesi dell'anno. Che vanno appunto Questi amici al poste Che c'è in omaggio all'interno. Sì come un paio da soltite. Questo è più bello. Sottile. Questo è il calendario. L'ho fatto così. Lo posso fare per scriverci sopra. Questo qua. La faccio sopra. Faccio vedere anche il poster. Che è all'interno. Grazie a tutti i mesi dell'anno. Se vuoi uscire il poster. Grazie a castelli. È meraviglioso. Questo qua. Anche. L'abbiamo pagato di cielo. Mi ha sempre regato. Il mio ragazzo. Per. Per Natale. Per Natale. Su l'universal camola. Così. E lo dovrei usarlo. Nel 2020. Passiamo al prossimo acquisto. Questa è una cosa molto molto particolare. C'era proprio uno stand. Che potete trovare anche nel centro. Il mondo juve di Torino. Che stavano appunto a Nichelino. Vedete questa cartellina qua. Che adesso vi sto già colorarla. Che è così. Di tutta in belluto. Questa. Ad esempio. Così è bianco e nero. Ed è il retro. Di tutto il popolo. Ho lasciato questa fantasia. Perché è bellissimo. Mi porta con le bamboline. Giapponesi. Questa è il cartoncino. E' bellissimo. Bellissimo. Questa è la partita di sto colorare. Io mi faccio davanti. Che lì mi cosa poi ne pensate. Forse nella fotocamera. Non si vede benissimo. E no. Ho la data tutta io. Adesso non so se. Quando si vedrà. Perché la luce. Non è la partita. Non si è ancora ancora fatta. Tutta con la colla. Con i brillantini. Poi ci vedete. C'è i brillantini. Poi l'ho fatta. Qua blu. Qua l'ho fatta gialla. Qua è tutta verde con la colla. Qua invece è un po' arancione e un po' rosa. Qua l'ho fatta un po' marroncine. Qua tutta viola. Questa è la volta blu e azura. Questa è sempre un po' viola e rosa. Questa è tutta rossa. La pina fa pioggia finita. Questa è tutta che si asciuga. Potete tenerla o usarla così. Questa è quella gialla. Questa è quella blu. Questa è quella verde. Questa è quella. Questa è tutta sopra. Questa blu è anche bellissima. Questa è quella che adoro. Che pensiamo che fosse bello. Questa è questa cosa verde. Ci trova tutti anche gli altri. E' bello che c'è anche all'interno. La parte da colorare. Che deve essere. Tutto. 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 Questo è un'ottima regola che potete fare. Il matale secondo me. E insieme ci sono anche gli pennelli della carioca. Che in questo momento ovviamente non. Non si posiziona. Però è un'ottima regola veramente bellissima. Mi rilasso molto colorarlo. Una cosa che ho comprato. Fra ora lo comprova io. Che punto mentre acquisto. E' questa qua. Questa qua. E' una colla peliterata. Che io adoro. Però appunto. Dare un po' più luce ai disegni. Ma anche le cose. Si può usare anche per i vestiti. Per il cartoncino. O colla. Peliterata. E ora. Questa qua. Alla pancata invece. Un lavoro e vendi. Ma deve essere un lavoro cinese. Passa appunto. Bellissima. E' morbidissima. La trovo bellissima. La metta veramente. Bellississima. Le ho pagata anche 10 euro. Ed era in offerta. Tra tanti peluche. Dei pokemon. E' adentro una. Velina. Ma lo ce l'ho del tutto. Poi. Passando gli altri. Due acquisti. Sono questi qua. Sono. Dei poster. Che io. Ho preso. E' una bandarella. Sempre. Di l'Xmax comics. Di l'Xmax. E' bellissima. Questo qua. Vedete un altro anime. Che si chiama invece. Sword Art Online. E così. Un giorno li appenderò. Un giorno li farò. Incorniggiare. Questo è tutto. Dei miei acquisti. Dei altri. Dei miei acquisti. Mi sarò. Dimenticata qualcosa. Ve lo farò vedere poi. In un prossimo video. Spero che questo video. Vi sia piaciuto. Vi sia piaciuto. Vi sia piaciuto. Vi sia piaciuto. Da alcune mie. Diciamo. Colleghe. Youtuber. E anche amiche. Che mi hanno consigliato. Che vi piaceva. Molto il rumore. Dei giornali. E più quanto riguarda. Gli altri video. Che mi avete consigliato. Pian piano. Se riuscirò. Di farò. Vi accolo. Una buona serata. E niente. Ci vediamo. A un prossimo video. Vi raccomando. Supportate il canale. Lasciate un like. E guardate sempre. La descrizione. Saluto a tutti.